L'avevo detto, l'avevo promesso che l'avrei rifatto e poi è passato un sacco di tempo e ancora sono qui, ma adesso ci sono. Allora, sto facendo questa sorta di mini dittico, diciamo così, di video sul fantomatico segreto per fare le note alte, perché alla fine sembra che si tratti di un segreto che si scambiano soltanto gli esperti, gli addetti ai lavori, eccetera. Non è affatto così. Per fare le note alte, cioè o meglio, per conquistare tutto il repertorio, scusate, tutta l'estensione vocale, dalle note più basse alle note più acute, serve semplicemente di allineare una serie di fattori. Ora farò un video prossimamente su quali sono questi fattori, come fare a sbrogliare le cose quando ci incasiniamo e invece di farle andare nel verso giusto cominciamo a bloccare tutto. Ma non è questo il giorno. Oggi affrontiamo come fare queste benedette note alte usando uno dei due elementi fondamentali. Il primo elemento l'abbiamo già affrontato in un video qualche giorno fa, andate a cercarvelo, c'è, è tutto spiegato, ed è la prima S. Il segreto è in due S. La prima S era lo spazio. La seconda S, quella di cui voglio parlare oggi, che è il concetto del supporto, ok? È un termine che io ho un po' mutuato dal mondo anglosassone, perché loro usano tanto questo termine support, onde evitare il casino che crea nel nostro mondo italiano il concetto di appoggio e di sostegno, perché è un concetto sicuramente più elaborato e articolato, ma che nella mente di chi non ci capisce niente crea un casino pazzesco, non solo. Lo crea anche nella mente di chi ci capisce, ma a sua volta di per sé, da solo, si incasina. Quindi preferisco proprio questo concetto, intendendo che è nel sostegno, nel supporto, nel lavoro, che viene grazie al controllo dell'emissione del fiato, dell'aria, che io riesco a lavorare in tutta l'estensione vocale senza fare casino. Allora, come ho detto nell'altro video, il primo elemento è lo spazio, il creare spazio dove il suono possa risuonare. Il secondo elemento è questo concetto di supporto da sotto. Queste due cose sono fondamentali. Così come nel concetto dello spazio, se io non creo lo spazio all'interno della bocca, il corpo in automatico andrà a cercarsi degli spazi creando compensazioni quando va bene o disastri quando va male, nel concetto del supporto dell'aria io ho bisogno di avere la chiara e la netta sensazione che questo arrivi dalla zona intercostale ma soprattutto addominale. Questo fantomatico diaframma di cui tutti parlano e che nessuno riesce a gestire perché realmente è un muscolo involontario, ci circonda a 360 gradi, davanti e dietro, di là, da tutte le parti ed è lui il muscolo preposto, la respirazione. Quindi io devo proprio imparare a capire come gestirlo pur non potendolo gestire e quindi come usare la muscolatura che gli è intorno e già la metà della gente mi dice, oh mio dio, e allora io vi faccio vedere adesso in maniera molto semplice quello che devo fare. La prima cosa, il primo pensiero è vedere gli sbagli che normalmente avvengono. Così mi piacerebbe tantissimo che provaste l'esercizio, se potete adesso, se no lo provate quando potrete e mi facciate sapere esattamente quale di queste situazioni è quella che vi suona più familiare. Se vi riconoscete in qualcosa di queste prove che sto provando a fare adesso per capire se eventualmente è uno dei motivi per cui immagino che se per caso non arrivate a fare le note acute ecco potete capire quale sia una delle ragioni. Allora facciamo un esperimento, ok? Faccio un esercizio semplice, riprendo lo stesso che ho fatto l'altra volta ed era questo Ok, semplice, semplice. Allora, questo esercizio qui, ho creato lo spazio, ok? Benissimo, lo spazio l'ho fatto Adesso che cosa faccio? Uno degli errori, diciamo così, più comuni è che la gente non coordinando correttamente la respirazione da sotto, quindi da questa muscolatura corretta che è invece quella che mi serve per gestire la respirazione inizia a compensare utilizzando la zona delle spalle, addirittura le braccia in alcuni casi o appoggiandosi, cercando di appoggiarsi a una rigidità di questo tipo Per esempio, uno degli errori più comuni è questo Lo vedete che a ogni nota io sto andando sempre più su, sempre più su, cercando in qualche modo di creare qui un appoggio che invece dovrei cercare da un'altra parte Altra eventuale opzione è questa, vediamo un po' se vi ci riconoscete Ok, lo vedete cosa sto facendo? Sto prendendo l'aria cercando in qualche modo di caricarmi con le spalle in modo tale che questa cosa qua ci sia, che questa sensazione qui mi dia la spinta che mi serve Un'altra è un po' più sottile ed è questa Lo vedete cosa sto facendo? Sto cercando in qualche modo di, inrigidendo le braccia, di darmi una struttura Tutte queste sono opzioni che se, come dicevo prima, mi va bene perché sono una persona che già canta che in qualche modo gestisce la propria voce diventano delle compensazioni che mi rendono la vita molto difficile ma che mi permettono comunque di tirar fuori qualche tipo di suono Quando io sono una persona che comincia da zero, non ci capisce niente quando arrivo a fare queste note, col cavolo che le faccio così se sto lavorando usando questi espedienti e quindi, che ne so, mi ritrovo qui La voce non ce la fa, arriva strozzata, sempre meno resistente o anche con le rigidità Perché non so da che parte prendere il suo Ora cosa devo fare invece in realtà? Dov'è la via giusta? La via giusta è quella di lavorare correttamente con la sensazione di inspiro e l'aria è come se fosse una goccia d'acqua che cade verso il basso quindi inspiro e e ho lasciato semplicemente che il diaframma facesse il suo lavoro lui apre i polmoni che si riempiono di aria dopodiché cosa devo fare? Devo con i muscoli addominali intercostali accompagnarne la risalita con un vero e proprio ingaggio muscolare perché qui arrivano quelli che decidono che boom, mi devo essere messa la corazza e la pancia sarà dura per sempre e di fatto finiscono in apnea o comunque con una compensazione mostruosa oppure ci sono quelli del butto fuori aria a casa, mi sgonfio in entrambi i casi c'è una parte vera ma la verità è che mi serve elasticità quindi io devo lavorare con questa muscolatura immaginando veramente all'altezza dello stomaco di buttare fuori ok? buttare fuori, spingere la mia cassa toracica rimarrà sollevata e vado ok? facciamo l'esperimento insieme inspiro, cade apro e poi impulsi da qua lo sentite? non solo potevo andare molto più su senza problemi ma poi se voi potete sentire la pancia la pancia sta lavorando è come aver fatto gli addominali fondamentalmente ok? quindi ricapitoliamo assicuratevi di capire quali possano essere le eventuali compensazioni che mettete in atto involontariamente in maniera casuale o perché a forza di lavorare in un certo modo vi siete come dire bloccati in quella situazione lì uno due una volta che avete riconosciuto il vostro eventuale incasinamento rivedete la sensazione di inspiro e butto fuori l'aria catturo e lancio con questo ingaggio reale muscolare ricordatevi le due S spazio e supporto e mettete in gioco questa cosa dopodiché come sempre se vedete che questi video funzionano che qualcosa ci state trovando allora datevi da fare perché non basta un video così serve veramente di avere una struttura un esercizi specifici per la respirazione per l'apertura per la voce mista per la maschera per mettere insieme tutte le cose affrontare il repertorio quindi trovate un insegnante trovate un metodo trovate un libro qualsiasi cosa che vi permetta di lavorare in questo momento online c'è di tutto c'è chi si improvvisa c'è chi lavora da tempo cercate forse chi in qualche modo vi comunichi principalmente meglio le cose ok per quello che mi riguarda lo sapete ci sono i miei corsi online ci sono le lezioni individuali su Skype adesso è tutto che costa pochissimo per cercare di andare incontro ai bisogni di tutti e li trovate sul sito cantafinoallestelle.com e ora guardo se ci sono i vostri messaggi o vedo dei tanti buongiorni e ok allora fatemi questo piacere provate i vostri provate questi esercizi cercate di capire se e cosa eventualmente sbagliate fatemi sapere e poi se dovessi vedervi nei miei corsi o nelle mie lezioni individuali sarò felicissima di darvi una mano più approfonditamente di così un bacio si dirà approfonditamente cominciamo